Rielaborare un contenuto significa comprendere, selezionare e trasformare le informazioni raccolte per creare un prodotto nuovo, che racconta il contenuto originario in una nuova forma e con integrazioni legate al contesto in cui è inserito. L'esempio classico potrebbe essere quello della creazione di una mappa concettuale, ma anche la semplice sottolineatura di un testo, la creazione di annotazioni, riassunti, tabelle sintetiche e così via. La prima immagine che viene in mente è sicuramente quella di uno studente che, dopo aver seguito le lezioni, rielabora in autonomia i materiali forniti dal docente. In questa prospettiva, quindi, l'intera responsabilità dell'evento di apprendimento è lasciata allo studente, con minimi indicazioni da parte del docente, ma non deve essere necessariamente così. Anzi, la rielaborazione di contenuti è un momento fondamentale nel processo di apprendimento di ogni studente. Una progettazione da parte del docente che sia specifica per la rielaborazione e al tempo stesso integrata nel corso e con gli altri eventi di apprendimento può costituire la base di un apprendimento più profondo e duraturo. Quindi, quando e dove inserire l'evento di rielaborazione di contenuti? Come abbiamo visto, nell'approccio tradizionale il docente presenta i contenuti, per esempio durante una lezione frontale sincrona, mentre la rielaborazione dei contenuti è solitamente lasciata al singolo studente nella modalità autonoma. Proviamo però a cambiare approccio. Proviamo a individuare possibili soluzioni che valorizzino la rielaborazione di contenuti all'interno della pratica didattica, che permettono di supportare al meglio gli studenti durante l'attività e, perché no, che forniscono al docente anche un feedback su quanto realmente rielaborato e appreso dagli studenti. Potremmo allora pensare a casi in cui la raccolta di contenuti sia svolta in modalità sincrona, per esempio attraverso MOOC, quindi online, per poi proporre attività di rielaborazione di contenuti durante momenti sincroni in aula, sfruttando il supporto e la presenza del docente. Liberando lo spazio d'aula dalla raccolta di contenuti, il docente può quindi avviare attività di rielaborazione individuali o collaborative, come ad esempio la creazione di una mappa concettuale a gruppi. Un altro esempio? Potremmo pensare a casi in cui la fase di rielaborazione sia inserita nel percorso e utilizzata come input per altre attività. Pensiamo per esempio alla situazione in cui sia la raccolta di contenuti che la rielaborazione siano guidati attentamente dal docente ma svolti in modalità sincrona. L'output dell'evento di rielaborazione, una mappa o un testo per punti, potrebbe essere utilizzato come input per una discussione strutturata tra studenti svolta in aula. L'ultimo punto su cui focalizzare l'attenzione è la possibilità per il docente di ricevere un feedback su quanto effettivamente è appreso dagli studenti. In questi esempi che abbiamo qui solo abbozzato, l'output finale delle attività di rielaborazione consente al docente di avere un riscontro immediato su cosa, quanto e come è rimasto agli studenti, su quali connessioni con quanto già appreso sono state create e così via. In questi termini la rielaborazione diventa quindi un altro elemento che il docente può sfruttare per riterare i contenuti delle lezioni, le attività previste e gli altri eventi di apprendimento programmati per il corso. Grazie.